Siamo in piena pandemia e speriamo presto di uscirne, intanto però tante cose abbiamo capito. Sicuramente abbiamo capito che il modello economico in cui abbiamo vissuto fino adesso quello liberista non può più reggere e quindi dobbiamo procedere a dei veri e propri nuovi paradigmi. Si parla tanto e stiamo parlando tanto di terza economia come modello economico che è di supporto alla prima l'economia capitale e alla seconda che è lo Stato. Dicci qualcosa in merito e dici perché secondo te la terza economia ci può aiutare a migliorare lo stato delle cose. Ma intanto perché è un'economia che punta su una variabile chiave per risolvere il problema che è quello della partecipazione, del coinvolgimento di tutti. Diremmo è un'economia generativa. Oggi i problemi si possono risolvere non solo dall'alto, c'è bisogno di cittadinanza attiva, è la terza mano, c'è bisogno di imprese responsabili, è la quarta mano. Il coinvolgimento, la partecipazione e la generatività è fondamentale sia per la soddisfazione di vita delle persone. Come noi sappiamo che se le persone sono generative sono anche felici, ce lo dicono milioni di dati. E anche per il successo dell'attività economica e politica. C'è un gioco di squadra, si mettono assieme le intelligenze di tutti quanti, quindi si crea un'intelligenza collettiva, ma anche per il politico è la chiave del successo perché coinvolgere nei progetti, nelle proposte, i cittadini, penso al bilancio partecipato, alla gestione comuna dei beni condivisi, vuol dire averli a fianco. Quei cittadini vorranno continuare l'esperienza con il politico, ovviamente la partecipazione richiede tempo, è costosa, va un pochino gestita e deve essere chiaro che poi a decidere ovviamente chi ha la responsabilità. E a proposito di questo, Leonardo, non dobbiamo anche pensare ai strumenti, tu hai parlato di imprese, di imprese sostenibili. E quindi è necessario che comunque si inventino e il Parlamento leggiferi per creare nuovi strumenti giuridici, nuove tipologie di imprese. Penso all'impresa di comunità, come sai c'è un progetto di legge a prima firma Emiliano Fenu, che è un senatore 5 stelle, depositato e si discuterà a gennaio, già si comincerà a discutere appunto questa nuova legge. Ecco, dici che cosa ne pensi e perché secondo te creare e costruire questo nuovo modello inserendo nuovi negozi giuridici è importante. Perché il tema chiave del futuro è quello del territorio. Oggi il mondo è fatto non tanto di concorrenza tra singole imprese, ma di territori che competono tra di loro per attrarre dei flussi. Oggi abbiamo flussi giganteschi di denaro, di turisti, di lavoratori, di capitali. E quindi i territori sono un po' in competizione tra di loro. E i territori sono anche quelli spesso in difficoltà, soprattutto pensiamo alle zone periferiche, le aree interne. E quindi oggi abbiamo bisogno innanzitutto di riscoprire il genio sloci di ogni territorio, che è quel fattore competitivo non delocalizzabile che la concorrenza globale non ci può portare via. E poi c'è bisogno di sottolineare quello che le imprese fanno o tolgono al territorio. Cioè il lavoro di ogni impresa può essere misurato in termini di effetti esterni positivi e negativi. L'impresa cosa fa? Dà al territorio perché restituisce valore, occupa le persone, migliora la qualità ambientale. Pensiamo al famoso intervento di Loccioni che restaurò tutto l'alveo del fiume dove è l'azienda, nelle marche. Oppure l'impresa toglie al territorio. Quindi inquinamento, peggioramento della vita delle persone. Ecco quindi che c'è bisogno di una legge che riconosca che poi questo ha degli effetti anche sullo Stato, sul fisco. E quindi è giusto agevolare un'azienda che dà al territorio e quindi riduce la necessità dello Stato magari di mettere delle pezze, delle correzioni e invece magari togliere a quelle che tolgono. Quindi ecco, secondo me non è altro che il riconoscimento di un principio economico fondamentale che è quello appunto dell'osmosi, dell'effetto che un'azienda ha sul proprio territorio. Quindi per questo è importante questo progetto di imprese di comunità. Ecco, e a tal proposito noi oggi ci troviamo e parliamo tantissimo di Recovery Fund o per meglio dire Next Generation EU e di fronte a questa massa di soldi, di miliardi che vengono dall'Unione Europea si pensa sempre di più che abbiamo il dovere e morale fondamentalmente nei confronti delle future generazioni di utilizzare queste risorse al meglio. E allora dobbiamo far sì che una parte di queste risorse possano essere utilizzate appunto da queste tipologie di imprese che avranno il compito di gestire quelle che ci piace chiamare beni comuni. Quindi dei beni che non sono né privati né pubblici. Ecco, io vorrei chiederti qualcosa sui beni comuni, come dobbiamo individuare appunto i beni comuni e poi sugli indicatori di impatto, cioè individuare quegli indicatori che ci consentano di appunto far sì che certe tipologie di imprese come le imprese di comunità per la loro mission abbiano come sistema premiante quello appunto di gestire i beni comuni affinché ci sia un impatto positivo nei confronti della comunità. L'esempio più tipico che si fa in letteratura sui beni comuni è quello dei pascoli eccetera perché viene naturale il fattore ambientale. Noi non viviamo in un vuoto ma viviamo immersi come dei pesci nell'oceano. L'oceano è l'ecosistema e l'ecosistema ci dà dei servizi che sono fondamentali per la salute, per la qualità della vita e anche per l'attività delle imprese. Quindi pensiamo alla appunto la qualità dei pascoli, la qualità dei suoli, la resistenza dei suoli all'erosione, al rischio idrogeologico, la qualità dell'aria, dell'acqua. Quindi tutte queste cose su cui appunto le aziende hanno degli effetti sono fondamentali. Preservarle, tutelarle anche con l'aiuto della coccettadinanza è essenziale. Ma oggi la grande sfida è proprio sulla misurazione, sugli standard. Come misuriamo noi tutte queste cose? Con quali indicatori? Noi con Next abbiamo avviato un percorso molto interessante, partecipato di costruzione di questi indicatori con tutti gli stakeholder del nostro paese e un percorso che aiuta le imprese a fare un'autovalutazione, che aiuta le miglie imprese a partecipare. Perché oggi il grande rischio è che questi indicatori siano troppo sofisticati, troppo complicati, richiedano troppo tempo per la costruzione e quindi rappresentino di fatto un ostacolo, una barriera all'ingresso delle piccole e delle medie imprese. Quindi è molto importante che gli indicatori creino un percorso facile di dialogo fondamentalmente tra imprese e stakeholder e che siano ovviamente poi coerenti con quelli che sono gli obiettivi posti dall'Unione Europea. Tutti i progetti dell'Unione Europea e del Next Generation EU dovranno rispettare il cosiddetto DSNH, do not substantially harm. Cioè tutti i progetti devono far fare dei progressi su uno dei sei indicatori della sostenibilità ambientale, mitigazione, adattamento, acque, economia circolare, qualità del territorio, bisogna peggiorare su uno degli altri. E quindi la questione degli standard oggi è fondamentale e dobbiamo far sì che questi standard non siano solo ambientali, ma siano anche su temi fondamentali del sociale e della generatività. Questa è un po' la sfida per il futuro. Per fare questo è chiaro che noi dobbiamo avere anche una visione diversa del mercato. Fino a oggi, e ne abbiamo parlato all'inizio, abbiamo subito il mercato, pensando che il mercato fosse quello che decidesse e comandasse i processi dei cittadini. Invece oggi noi cominciamo a pensare a una visione diversa. Per cui, da un lato, il mercato va regolato e non è quello della capitalizzazione del profitto e va regolato dallo Stato, ma dall'altro il mercato non può essere subito dal cittadino. Il cittadino deve, con i suoi atteggiamenti, con i suoi comportamenti, determinare cambiamenti nel mercato. Ci vuoi parlare del voto con portafoglio? Ma è un grande progetto che abbiamo da tanti anni e che finalmente, dopo aver seminato faticosamente, cominciamo a vedere dei frutti importanti. Noi diciamo che il mercato, da anni dico che il mercato è domanda e offerta e noi siamo la domanda, quindi noi siamo fondamentali sul mercato. Abbiamo, io dico, in tasca le chiavi dei lucchetti delle nostre catene, abbiamo un potere enorme che esercitiamo. Se noi domani tutti quanti votassimo col portafoglio, cioè premiassimo con le nostre scelte di consumo e risparmio le imprese leader nella capacità economico, sociale e ambientale, anche per il territorio, il mondo da domani sarebbe cambiato. Ovviamente ci sono dei limiti alla realizzazione di questo obiettivo, che sono la consapevolezza dei cittadini, ecco perché la cultura, la comunicazione è fondamentale, anche quella che stiamo facendo oggi. L'informazione, quindi ancora gli standard, i criteri, gli indicatori, l'aggregazione delle scelte, non basta che voti col portafoglio, dobbiamo essere in tanti, e il prezzo. Ecco, oggi vedo delle iniziative bellissime, intanto nel mondo della finanza possiamo dire che ce l'abbiamo fatta, perché dopo la nascita pioneristica di cui tu sai di venti anni fa di Etica SGR, oggi addirittura ci arriva il più grande fondo di investimento del mondo, che dice che non voterà col portafoglio, non comprerà titoli di aziende ad alto rischio ambientale e sociale, perché metterebbe in rischio i propri soldi. E addirittura l'altro giorno PricewaterhouseCoopers che dice che il 77% dei fondi intervistati dismetterà i titoli nei prossimi due anni. Però sul consumo dobbiamo fare grandi passi avanti, perché lì è più difficile, le scelte sono molto più atomistiche, l'informazione è minore, i cittadini sono meno organizzati. Su questo è molto importante i passi avanti che stiamo facendo anche sull'online, sul digitale, quindi penso a Giosto, penso a tutti i siti che promuovono, soprattutto i campioni della sostenibilità, facilitandone anche l'acquisto col commercio online. Penso anche a iniziative molto belle e nuove come il consumatore e dei cashback privati, dove sono i consumatori che creano il loro prodotto. In Francia ha una storia bellissima, si sono accorti che tra i produttori di latte c'era un 30% in più di suicidi, i cittadini hanno costruito un loro prodotto di latte, si sono accorti che con 7 centesimi in più per litro si poteva assicurare un salario equo ai produttori, nonché fare un prodotto di qualità ambientale. è nato questo prodotto che oggi ha il 7% del mercato, 20 milioni di litri di latte ed è diventato una vera e propria innovazione dove accanto alla marca tradizionale e alla marca della grande distribuzione esiste oggi la marca del consumatore. Ecco, innovazioni di questo tipo ci aiuteranno moltissimo a realizzare il voto col portafoglio in materia anche del consumo. Bene, grazie Ronaldo. Tu sai che io sono in Parlamento e noi stiamo cercando il più possibile di portare avanti delle novità in questo campo, fondamente quello di costruire nuovi paradigmi per una economia diciamo diversa, partiamo dal sociale, ma un'economia che abbia uno sguardo al bene comune e che fondamentalmente al centro metta la persona e non il capitale. Ma per fare questo abbiamo bisogno che ci sia anche una cultura che vada avanti anche da parte dei cittadini. Mi piace dire i famosi cittadini responsabili che se da un lato imparano a votare col portafoglio, dall'altro ovviamente devono votare anche quando ci sono le elezioni, ma dall'altro ancora devono costruire percorsi di democrazia anche, democrazia diretta che ci aiuti a credere realmente che le cose possono cambiare e sperare per generazioni future che possono vivere le stesse cose che i nostri genitori e i nostri nonni sono stati in grado di farci vivere entrando in uno stato di benessere sicuramente diverso da quello che loro hanno vissuto durante la guerra. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti.